Se qualcuno per esempio volesse dire qualcosa, bene. No, a me se non la va. Maggiorenne una seconda volta, come un tempo quando l'età adulta si raggiungeva al compimento del ventunesimo anno di età, rifiutando evolve e si presenta nell'anno scolastico 2018-2019 in una nuova veste, rifiutando lo spreco versione 2.0. Il progetto, dedicato alla sensibilizzazione ambientale rivolta ai giovani, non è incentrato solo sui rifiuti, ma si apre a una sfida globale che va dalla sostenibilità all'economia circolare. Abbiamo deciso quest'anno, visto che ha superato ormai i vent'anni, di inserire delle novità. Quindi non soltanto i rifiuti e raccolta differenziata, ma un ragionamento più generale sullo spreco, ma soprattutto sugli obiettivi dell'agenda 2030. Ormai non si può parlare soltanto di rifiuti, se si vuole parlare di sostenibilità, bisogna parlare anche di cambiamenti climatici, sprechi e altre iniziative che i cittadini possono fare. L'obiettivo è quello di educare le giovani generazioni ed allargare gli orizzonti verso le 5P, ovvero persone, prosperità, pace, pianeta, partnership, attraverso una serie di spettacoli di money comics a teatro e con laboratori nelle scuole. Il primo appuntamento questa mattina al Teatro San Matteo con tre classi dell'Istituto Tramello. Per poi trovarci tutti insieme a maggio per festeggiare l'ambiente, festeggiare anche questa edizione di Rifiutando.